Amanti della crema spalmabile, grandi notizie, è in arrivo il pop-up hotel della Nutella. Ciao a tutti, sono Alessia, benvenuti in questo nuovo video dove parleremo dei pop-up hotel e della notizia che la Ferrero ne sta prendo uno dedicato alla Nutella. Mi raccomando, come sempre a fine video ti aspetto nella sezione commenti e fammi sapere che cosa ne pensi. Ma parliamo dei pop-up hotel o comunque parliamo delle attività pop-up. Sono un tipo di attività temporanea, anche di pochi giorni, quindi hanno un limite temporale. È un tipo di business che sta prendendo piede anche in Italia. I pop-up hotel stanno seguendo questa logica, sono delle attività che è aperte per poco tempo, sono temporanee, ma sono dotate in ogni comfort, quindi non pensate di essere in un campeggio con un materassino e basta. Anzi, il lusso non viene dimenticato. Quindi se vuoi essere coccolato al massimo e non vuoi perderti la jacuzzi, avrai anche quella. I pop-up hotel vengono allestiti in tende, in container, però i comfort ci sono, quindi su questo non ti devi preoccupare. Ma la particolarità sta che solitamente queste stanze vengono messe, vengono create in luoghi insoliti, che solitamente sono inaccessibili. E i pop-up hotel vengono utilizzati solitamente a eventi aziendali, matrimonie, fiere, e sono stati addirittura promossi dagli enti stessi del turismo. Questo è il caso del Visit Wales in Scotts, che nel 2017, in occasione delle celebrazioni del Year of Legends, vennero creati questi pop-up hotel. Otto piccoli cottage disposti in tre aree insolite della Scozia. Questi, oltre ad essere dotati di ogni comfort, avevano anche un tettuccio apribile che permetteva a coloro che vi soggiornavano di vedere il cielo stellato. Ovviamente è stata un'esperienza incredibile. La stessa cosa è stata realizzata su falsariga dalla Svizzera. L'ente del turismo svizzero ha fatto disporre 11 camere, ovviamente pop-up, in 11 posti insoliti della Svizzera. Solo che questa volta non erano in prefabbricati, erano in strutture preesistenti, tipo una rimessa di barche, in un capanno da pesca e una prigione storica. Quindi c'è anche questa particolarità. E ovviamente ci sono anche tutti i comfort. Lo sto ripetendo spesso perché è un aspetto che ci tengo a sottolineare. Non si sta in tenda e bassa, quindi senza un bagno, senza sky, senza acqua corrente. No, si ha tutto. E questo è bello dei pop-up hotel. Ovvio che va a prendere una cantina di fascia alta, non va appena chi cerca la stanza a 30 euro in alta stagione. Quindi sia chiaro questo aspetto. Ma veniamo alla novità del 2020. La Ferrero sta aprendo a gennaio un pop-up hotel in Napa Valley. Quindi non in Italia ma in America. Il soggiorno sarà gratuito e vi si accede tramite concorso. Quindi i partecipanti dovranno creare un video dove devono dire come la Nutella abbia cambiato il loro modo di fare colazione. Quindi vi rendete conto che nonostante non sia un concorso destinato a tutti, comunque la notizia, questo pop-up hotel sta facendo parlare di sé in tutto il mondo e quindi si parla di questo marchio ed è molto importante per la brand awareness. Inoltre la Ferrero ha pensato proprio a tutto, all'arredamento, all'immagine della Nutella ovunque, dai cuscini alla carta dai parati. Inoltre sono state organizzate una serie di attività per non far annoiare chi soggiornerà presso questo pop-up hotel che poi sarà aperto solamente per un weekend. E quindi ci sarà il team di Dunkake che insegnerà come creare un pancake artistico oppure ci sono personaggi noti della tv, chef famosi in America, che saranno presenti per il brunch realizzando con te la colazione. Ora, Ferrero a parte, perché dovremmo aprire un pop-up hotel? In quel caso andremo a puntare a una strategia di marketing ben mirata, andremo a puntare sulla scarsità, sull'urgenza e soprattutto sull'esclusività. Sono altri aspetti da non sottovalutare. E come dicevo prima, il target sarà alto, quindi di avere un tipo di clientela ben precisa. Inoltre è un ottimo modo per far parlare di sé in tutto il mondo. La notizia si è diffusa a macchia d'olio e questo è molto importante. Come ben sappiamo, noi siamo bombardati da una miriade di prodotti. Non possiamo conoscerli tutti e averli provati tutti. Quindi nel momento in cui io penserò a una crema spalmabile, in questo caso se il marchio Nutella si è ben posizionato nella mia mente e quindi al primo posto, nel momento in cui ne me ne servirà una, io penserò direttamente alla Nutella. Poi ci saranno gli altri. Se arriverò a pensare agli altri, Ricordatevi sempre, nel bombardamento quotidiano che un utente riceve, ci dovrà essere sempre un primo posto per tutti. Quindi il tuo marchio nella tua nicchia dovrà essere al primo posto nella mente delle persone. Nonostante Nutella sia un marchio ben affermato, di certo non sono esenti da fare marketing. E questo mio messaggio è rivolto a tutti coloro che invece stanno lì nel loro negozietto o pensano al loro servizi o prodotti che offrono e ritengono di dover stare fermi a vent'anni fa, perché vent'anni fa si faceva così. Quindi adesso io non ho bisogno di affacciarmi al web, a migliorarmi, a comunicare al mondo che ci sono. Tanto c'è un negozio e quindi la gente sa che io sono qui. Pugia è errato. Se non fai tu questo lavoro, lo farà il tuo concorrente e quindi tu a un certo punto ti ritroverai a chiudere i battenti. Sono drastica? No, non penso, perché ne sto vedendo veramente di ogni. E ne sento veramente di ogni. Gente che davvero ritiene di non dover fare marketing e poi si lamenta che hanno pochi clienti, ma le persone non sanno che io sono aperto a un determinato orario. Ma se tu non ti affaccia al mondo, non comunichi con le persone, come pretendi di essere riconosciuta? Che le persone si ricordino di te? Quindi mi raccomando riflettete su questo aspetto. Spero che questo video ti sia stato utile per riflettere. Pensa a quella che è la tua strategia di marketing e che cosa fai tu per essere al primo posto nelle menti delle persone. Ti invito a mettere mi piace e a iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. E se vuoi migliorare le tue tecniche di copywriting, ti invito ad andare sul sito www.alessiavocanfuso.com e scaricare la mia guida gratuita Tecniche e Pratiche di Copywriting. Besos!